Anche lo scorso fine settimana è stato letteralmente di fuoco a Giarre Riposto. In via Bellini a Giarre sabato sera, intorno alle 22, i vigili del fuoco e del distaccamento di riposto sono intervenuti per spegnere il rogo scoppiato proprio di fronte all'ufficio postale a causa dell'incendio di un'automobile, una Fiat Panda con impianto GPL. Le cause del rogo sono state di natura accidentale. Il proprietario della vettura, infatti, aveva momentaneamente parcheggiato l'auto perché rimasto senza carburante. Procurata la benzina in una bottiglia di plastica, stava provvedendo a versarla nel serbatoio, ma inavvertitamente parte del carburante è finito sulla ruota posteriore destra del veicolo. Una cicca della sigaretta che teneva in mano è caduta sulla ruota in questione facendo scoppiare l'incendio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Giarre e i vigili del fuoco di riposto che hanno subito sedato il rogo, senza conseguenze per gli edifici vicini e scongiurando qualsiasi pericolo per residenti e passanti. L'autovettura, purtroppo nel rogo, è andata completamente distrutta. E ieri, invece, i vigili del fuoco del distaccamento di riposto sono intervenuti nel pomeriggio in via Michele Filosto a riposto intorno alle ore 15 per spegnere le fiamme che hanno completamente ingoiato una Fiat Punto in sosta sulla via in questione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre. Le cause restano ancora da accertare. Grazie a tutti.